Non è più ritenuta una persona socialmente pericolosa. Giacomo Ciriello da oggi è così libero e non dovrà più essere sottoposto ad alcuna vigilanza. A stabilirlo sono stati i professionisti sanitari che lo hanno seguito in questi anni. Era la notte tra il 26 e il 27 febbraio del 2017, quando il giovane di Lucignano, all'epoca 16enne, imbracciò il fucile ed esplose un colpo contro il padre Raffaele, uccidendolo. Fu poi lo stesso ragazzo a chiamare le forze dell'ordine per costituirsi. Venne dichiarato affetto da una patologia della personalità che lo aveva reso incapace di intendere volere. Quella terribile notte avrebbe agito in preda ad uno scompenso psicotico delirante. Il processo a suo carico non venne così mai aperto in quanto non era giudicabile penalmente. Poco più che 18enne venne affidato ad una casa famiglia in provincia di Prato, dove ha seguito un percorso riabilitativo e di rinserimento nel corso del quale si è anche diplomato e da dove adesso è uscito per iniziare una nuova vita senza restrizioni.